Nel 1237 le truppe imperiali, sostenute dalle città ghibelline, riportarono un'importante vittoria a Corte Nuova. I comuni alleati però non si diedero per vinti e si appellarono prima a Papa Gregorio IX e poi al suo successore, Innocenzo IV. Entrambi i pontefici avevano rapporti molto tesi con l'imperatore. Gregorio lo scomunicò perché annullò una prima crociata per lo scoppio di un'epidemia. Poi, quando finalmente Federico raggiunse la Terra Santa, lo condannò perché scese a trattative con il sultano Malika al-Khamil.